Musica Benvenuti sul canale qui, è Kratos25 Allora, oggi è il 23 maggio, il day one dell'uscita appunto di Solo a Star Wars Story E beh, è passato qualche mesetto e siamo ancora qui a fare una recensione di un film di Star Wars Cosa che mi dispiace non poterlo fare sul periodo natalizio e abbiamo dovuto anticipare di un bel po' di mesi questa volta la recensione Perché il film è uscito non a Natale Però vabbè, perdoniamogli a questa piccola sciocchezza E siamo qui oggi appunto per fare la recensione di Solo a Star Wars Story Allora, prima di cominciare vorrei ringraziare proprio sentitamente i membri di The Space Cinema Che mi hanno regalato questo, dato che è il day one Un bellissimo poster di Solo a Star Wars Story Che sinceramente io sono molto felice di avere dopo aver visto questo film E quindi potrete intuire che il film mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente molto Più di quanto avrei immaginato E ora non vorrei mancare di rispetto a qualcuno ovviamente Però con tutte le critiche che sono giunte a questo film Le cattive premesse da Cannes e via discorrendo Io credo sinceramente che la gente si sia fumata un po' di Cannes appunto Perché veramente o sono io il diverso Oppure trovo che le cose siano un attimino esagerate Le prime critiche sono state abbastanza esagerate Difatti non a caso Sono andato qui, ho aperto il computer Ho letto un paio di recensioni E effettivamente c'è qualche differenza tra le recensioni di Cannes E le recensioni che vedo adesso C'è qualche piccola differenza effettivamente E quindi sono veramente felice di questo film A tal punto che lo ritengo migliore del Risveglio della Forza Ma non degli ultimi Jedi Gli ultimi Jedi rimane il mio film preferito Per quanto questo film sia molto meglio a mio parere di Rogue One Che Rogue One non mi era piaciuto più di tanto Perché lo ritrovavo, lo trovavo noioso Lento e con personaggi dimenticabili abbastanza L'unico cameo buono è quello di Darth Vader Questo film è eccezionale veramente Ron Howard che io dicevo Beh, ha fatto una cagata Dopo Inferno sembra che abbia ritrovato la strada giusta E infatti con Un Inferno si fanno due capolavori E quindi sono molto soddisfatto Adesso ovviamente vorrei cominciare questa recensione Sottolineando una cosa però Sottolineo una cosa prima di cominciare Che entri bene in testa alla gente Sono stato parecchio e non esagero con il termine Attaccato verbalmente e anche in altri modi Sotto il video degli ultimi Jedi The Rogue One, il video della forza Dicendo che io Cioè mi avete detto che io non devo apprezzare questi film Che li devo odiare Che sono un fanboy Disney Ecco Io non sono il genere di persona che blocca i commenti Io non li blocco perché Secondo la mia opinione Ogni persona deve essere libera di esprimere la propria opinione A me non dispiace se dite che il film non vi è piaciuto Non mi rompe i coglioni questo Lo dico apertamente Mi rompe le palle Che andate a dire agli altri se a voi non vi è piaciuto Che anche gli altri lo devono odiare Perché non è Star Wars Ecco questi sono commenti che non mi piacciono Quindi invece di bloccare i commenti Parlo a tutti i fan Mi dispiace Ma invece di fare che rispondo bene Alle persone che dicono Ebbè non mi è piaciuto però Effettivamente potresti avere ragione Oppure quelli che dicono completamente No, non mi è piaciuto A tutti i generi di fan Io non risponderò ai commenti I commenti li ignorerò bellamente Quindi potete anche sfogarvi Non me ne frega proprio niente L'opinione è mia Me la tengo per me Voglio condividerla con gli altri Ma non me ne frega niente dell'opinione altrui Ragiono con la mia mente Sinceramente non mi farò influenzare Gli ultimi Jedi mi è servito di lezione A non dare ascolto più che altro alle critiche negative Quindi detto questo Cominciamo con la recensione di Solo a Star Wars Story Allora La cosa che più mi preoccupava di questo film Era Alden Harenreich Harenreich è un attore semi-sconosciuto Che personalmente non ho mai visto in nessun film Cioè so che ha fatto alcuni film Uno con George Clooney se non vado errato Ave Cesare Però altri film non lo conosco E effettivamente Se avete visto la mia trailer reaction Continuavo a dire effettivamente che La sua faccia non ci stava con quella di Harrison Ford Nemmeno come Harrison Ford Ringiovanito Sembra Leonardo DiCaprio Quindi avevo i miei seri dubbi sulla performance di Harenreich Nell'interpretare Han Solo E la mia opinione sinceramente non è cambiata al riguardo Cioè Harenreich è Han Solo Un Han Solo un po' diverso da come lo ricordiamo Però effettivamente è lui È proprio l'Haren Solo che noi conosciamo Ma l'aspetto invece non riesce a convincermi Cioè mi sono immedesimato in Han Solo in questo film Ma non nell'aspetto Cioè nell'aspetto non mi ricorda nemmeno un giovane Harrison Ford E questo è stata effettivamente una pecca Però prima di parlare dei personaggi Ho sfatato questo mito che Questo Han Solo non mi serve piaciuto No mi è piaciuto il personaggio ma non l'attore L'attore riesce a far suo il personaggio Ma non l'aspetto sinceramente Quello mi ha deluso parecchio Però comunque parliamo della regia Allora Ron Howard ha dovuto sostituire Phil Lord e Chris Miller Perché c'erano state delle divergenze sul set E stando alle critiche che ho sentito da Khan Poteva essere dovuto proprio al fatto che La sceneggiatura scritta dai Kazdan Forse non era molto adattabile Però devo dire che Ron Howard Si era cavata egregiamente nel rimediare al pasticcio Cioè io adesso non so cosa sia di Lord e Miller E cos'è di Howard Howard sembra che abbia girato il 90% del film Quindi non posso sapere se c'è qualcosa effettivamente di Lord e Miller La sceneggiatura non è loro Però devo dire che Howard non mi ha deluso Cioè se avete visto la mia recensione di Inferno Inferno è stato proprio un inferno per me guardarlo È proprio un film diretto male Mediocre abbastanza E parliamo di colui che ha girato il Grinch Il Codice da Vinci Angeli e demoni No in questo film si era cavata veramente molto bene E dico anche che va bene in questo film c'è molta più comicità rispetto a Rogue One Effettivamente questa ve la do buona C'è un po' molta comicità Però è giustificata Perché è nel personaggio di Han Solo Questo film volevo che fosse uno spaghetti western cazzaro Proprio non in stile Deadpool Ma che si avvicinasse un po' di comicità E l'ho avuta Ho riso a tutte quante le battute praticamente Qualcune effettivamente era abbastanza scarsa Ammetto Però le battute sono geniali Soprattutto quelle tra Chube e Han E anche tra tutti quanti gli altri personaggi sono l'uno più comico dell'altro Che effettivamente in certi punti la comicità va bene Ma in altri no Ma comunque mi è piaciuto come hanno gestito il tutto E parlando sempre del tono del film Sì effettivamente è uno spaghetti western come lo volevo io Con lo spazio, gli alieni li scorrendo Ma è anche un gangster movie E fin qua ci siamo Però i risvolti di trama che ha questo film Ammetto che sono troppo disneyani C'è per esempio una cosa che succede verso la fine che non vi dirò Che riguarda un dato personaggio Che mi ha fatto capire che l'atmosfera è parecchio disneyana Non me l'aspettavo ma quando è successo ho detto Mmm... Potevano risparmiarselo effettivamente E adesso quindi passiamo ai personaggi Dato che con Han Solo a Den Haarenreich Ho già detto le mie impressioni Tecnicamente senza spoiler è tutto quello che posso dire È Han Solo nel carattere È più che altro un proto Han Solo Prima che diventi l'adorabile canaglia che noi conosciamo Qui verge di più sul lato eroico Però è Han Senza però che sia il suo corpo Senza che sia... È un po' come il Dr. Who Dr. Who effettivamente cambia aspetto in ogni sua serie Ogni tre serie più o meno Ma la caratteristica rimane sempre la stessa È un giocarellone, via discorrendo È sempre Han Solo come se avesse cambiato volto E questo non mi è piaciuto con la storia del volto Però il fatto che sia Han Solo già mi ripaga a sufficienza Ma adesso parliamo di Chubecca Il cui attore purtroppo non mi ricordo chi è Comunque non è quello originale Beh Ci sono dei risvolti di trama che proprio Non mi sarei mai aspettato Difatti l'incontro tra Han e Chube Chi l'avrebbe mai detto? Cioè viene mostrato effettivamente nei fumetti originali Questo è un mezzo spoiler Viene mostrato nei fumetti originali Come i due si conoscono Ma vi dico subito Questo è un piccolo spoiler Come si incontrano Non è come nel fumetto È un altro modo Ed è una cosa veramente spaziale Proprio non me l'aspettavo una cosa del genere Le interazioni con Han e Chube sono fantastiche Ecco l'unica cosa appunto È il problema che Han Solo Sì è famoso anche per parlare molteplici lingue Però non è uno spoiler Cioè spero che non lo sia Han in questo film appena incontra Chubecca Può parlare il walkie a caso Cioè lui è cresciuto su Coreglia Eppure parla il walkie Non so se su Coreglia ci siano stati altri walkie Però comunque non capisco Perché lui conosce un po' tutti i dialetti Però comunque è bello il rapporto tra lui e Chubecca È interessante vedere come nasce la loro amicizia Per poi diventare quello che noi conosciamo al giorno d'oggi L'an Solo che tutti conosciamo Veramente interessante Poi vorrei parlare di Danny Glover Che interpreta Lando Calrissian Qui ho una piccola critica effettivamente Agli estremisti che vogliono appunto Boicottare il film Adesso uno dei motivi per boicottare il film È che hanno rivelato i fratelli Kasdan E anche l'attore stesso Danny Glover Che Lando è pansessuale Ora per i meno informati Cosa vuol dire pansessuale? Vuol dire una persona che fa sesso con tutte quante le specie E sinceramente avendo visto il film Mi chiedo dove si pone il problema Cioè effettivamente Se andate a rivedere il Lando di Billy Dee Williams In L'impero colpisce ancora Proprio quando sono le sequenze su Bespin Ti accorgi che effettivamente Lando Ha un attimino quella sessualità non ben definita Fa la corte a Leia Però comunque si comporta in modo strano Qui effettivamente io non avrei detto con certezza Che lui fosse bisessuale Ma addirittura è pansessuale in questo film Ci sono solamente due gag a riguardo È un po' come i Porg I Porg degli ultimi Jedi I Porg sembravano una minaccia Il nuovo Jar Jar Binks appena arrivato Compaiono due minuti i Porg Non fanno niente Ecco Le battute dedicate alla pansessualità di Lando Ci sono, lo ammetto Ma sono solamente tre o quattro E in un'unica parte del film Non va a intaccare il ritmo Non va a intaccare il personaggio Certo effettivamente io non guarderò più Lando Ora che so con certezza che lui è pansessuale Non lo guarderò più con un certo occhio Non fraintendetemi Non intendo che lo guarderò con disprezzo Perché io sono omofobo e vi discorrendo Anzi niente Non mi aspettavo che lui fosse così Però il personaggio è sempre simpaticissimo Caratterizzato fantasticamente con anche la coppiata L3 L3 sarebbe il droide che si vede nei trailer Lui e Lando fanno una coppiata pazzesca Infatti tra di loro ci sono queste battute sulla pansessualità Ma sinceramente chi se ne frega Sono battute che intaccano quattro secondi di pellicola Non mi dà fastidio Anzi è divertente esplorare questo nuovo lato Difatti se con Lando viene esplorata questa nuova sessualità Nella galassia lontana lontana L3 invece esprime un concetto di È un po' come Ben-Hur Cioè non come Ben-Hur Mosè Mosè liberò gli ebrei dagli egiziani e vi discorrendo Ecco L3 è un robot Che fa proteste contro la schiavitù dei robot Praticamente sì so cosa dite Guarda è un robot con la voce da donna Femminista Che odia gli uomini Sì cazzate di questo genere Ogni scusa è buona per gettare merda su Star Wars No il suo percorso è veramente bello Perché lei detesta gli schiavisti Che trasformano i robot Trattano i robot non come esseri viventi Ma come puro oggetto di divertimento Per le masse E anche per i propri piaceri E lei quindi si ribella a questo sistema Contro abbastanza di volere di Lando Lando non vuole che lei Corra dei rischi E quindi è abbastanza serio con lei Su questa faccenda Proprio perché vuole proteggerla È una sua carissima amica Nonché il suo logotenente Quindi è comprensibile Però non capisco appunto L'astio della gente A dire Lando pansessuale L3 Femminista Il primo robot donna Della storia di Star Wars Ma proprio non capisco Chi se ne frega Di questi piccoli dettagli Sono dettagli Che compaiono per 4 secondi Sua pellicola E Jar Jar Binks Ha intaccato un intero film Quindi rendiamoci conto Della differenza Trattano come nuovo Jar Jar Binks Argomenti che durano 4 secondi di pellicola Proprio Cosa non fa la gente A giorno d'oggi E poi parliamo di Woody Harrelson Tobias Beckett O Tobias Non mi ricordo come si pronuncia Ecco effettivamente Harrelson È uno dei punti negativi Del film Ma non tanto per l'attore L'attore È bravissimo Woody Harrelson Ma il personaggio di Beckett È abbastanza prevedibile Cioè in praticamente Tutto il corso Tutto il corso Della storia Che lo riguarda È perfettamente Non so come dire Prevedibile E sai ovviamente Come andrà a finire la storia Cioè man mano che va avanti il film Inizia a mettere i pezzi Del puzzle insieme E capisci E vuoi vedere che alla fine succede questo È effettivamente Quello che succede alla fine L'avevo indovinata Ma non vi starò adesso a dire questo Ma il personaggio in sé È simpatico Non dirò eccesso Ma simpatico È il classico mentore Che non vuole avere niente a che fare Con il suo pupillo Poi la fin fine Poi la fin fine lo prende sotto la sua ala E si crea questo piccolo legame La fin fine Ma non vi starò a dire molto E ora Parliamo della Calisi Emilia Clarke Che qui interpreta Kira Un personaggio Anche lei Molto prevedibile Un po' meno simpatico Degli altri Se devo dire Effettivamente Cioè ho trovato più simpatica L3 Però Kira Mi è sembrata molto inespressiva Cioè Già in Terminator Genesis La Clarke Aveva dimostrato Che sullo schermo Cinematografico Effettivamente Non se la cava molto bene Se la cava meglio A fare le serie tv Però comunque Il suo personaggio Non dico che sia brutto Anzi è simpatico Ma è legnoso Devo dire che è abbastanza prevedibile Come Beckett Se non più prevedibile Ma è legnoso Veramente Inespressivo Non capivo quando Non capivo se applaudire Oppure se dire Ma che è sto pezzo di legno Veramente Abbastanza inespressiva La Clarke E mi è dispiaciuto Cioè Io non guardo il trono di spade O meglio Ho guardato le prime quattro stagioni Per quel periodo Lei mi sembrava Un bel personaggio Un gran bel personaggio Lei è anche bella Ma In questo film no Davvero non Non ho sentito collegamenti con lei in più Tra lo spettatore E il personaggio Non ho sentito questa empatia Non sono uscito a farmela piacere E nemmeno alla fine Quando fa una data cosa Però Tant'è Poi ovviamente ci sono molti altri personaggi Che andrebbero esplorati Mi limiterò a dire Alcuni nomi Ovvero Dreyden Voss Interpretato da Paul Bettany Che è il visione della Marvel Del Marvel Cinematic Universe E Enfis Nest E se devo ammettere C'è un terzo giocatore Nella partita Perché adesso ho elencato i villain I due villain principali Ma effettivamente c'è Verso la fine Un terzo giocatore Nella partita E adesso Per parlare un attimino in generale Non vi Non vi dirò cosa ne penso Dei villain Quanto Del discorso in generale Io avevo paura Di questo film Perché Non solo La storia poteva essere Molto disneyana Cosa che non è alla fine Alcuni elementi disneyani Ma non tanti Ma la cosa che mi poteva deludere Erano i villain Villain al plurale E questa è sempre Una delle grandi pecche Di questi film Ovvero Se c'è più di un villain È possibile Che quei villain Diventino macchiette Degli stereotipi E avevo paura Effettivamente Che succedesse questo Perché Questo film è ammirevole Effettivamente nel suo concetto Se ci pensiamo Perché I I Kasdan E la Kennedy Non volevano Creare proprio Un concetto di Villain vero e proprio Ma volevano rendere Un villain Tutto il sistema Cioè Volevano rendere L'intero sottobosco Mafioso E anche criminale Il villain Vero e proprio Cioè questo film Ha Il villain L'aspetto di Paul Bettany Ma in realtà Lui rappresenta Quello che rappresentava Anche Jabba the Hutt Ovvero La criminalità La L'aspettatezza Del sottobosco Ed è ammirevole Quindi vedere come hanno cercato Di non incentrarsi Su un solo cattivo Ma su tutti i generi Di cattivi Che abitano Quel bosco Quello sottobosco Criminale Perché Fino ad ora I film di Star Wars Si sono incentrati Sulla guerra Tra i Sith E i Jedi La Repubblica La Federazione dei Mercanti Come si chiama L'impero La ribellione Il primo ordine La resistenza Ci sono sempre questi conflitti Tra eserciti Ma noi non vediamo mai Che c'è un'altra guerra In sottofondo Ovvero Quella del mondo criminale Ed è ammirevole Come abbiamo voluto Distanziarsi dal concetto Di guerra In quel senso E abbiamo mostrato Un conflitto Proprio Più cittadino Più interno Al mondo Che tutti noi conosciamo Ovvero Tutti noi possiamo essere Mercanti In questo universo di Star Wars Vivere da agricoltori Per esempio Però Un certo tipo di guerra Arriva sempre In qualsiasi campo Qui è il campo Della malavita Della criminalità Della spietatezza Ed è bello Che abbiano cercato Di mettere questo contesto Di incarnarlo Sotto più facce Molto bello Enfis Nest Conserva un colpo di scena Che effettivamente Mi ha deluso Ma allo stesso tempo Mi è piaciuto molto Cioè È un 50 e 50 Mi è piaciuto il colpo di scena Ma non ciò che rappresenta E vedrete poi Nella parte spoiler Che cosa dirò A riguardo Le scene di azione Adesso Le scene di azione Sono state molto criticate Per essere macchinose Che non raggiungono mai Il loro pathos E che Non sono soddisfacenti Ecco Sinceramente Io non ho visto questo Cioè La corsa dello speeder A inizio del film La rapina sul treno Cazzarola Sinceramente L'incursione Alla miniere di Kessel Che finalmente si vedono Citate da C3PO In Nuova Speranza E poi Come si chiama La rotta di Kessel In meno di 12 parsec C'è anche quella Come si vede Nei trailer E nei materiali promozionali Porca miseria C'è tutto questo E la gente E la gente Comunque dice Boh Roba action Ma niente di che Veramente mi chiedo Cosa si è fumata la gente Proprio Un bel paio Di canne No Mi è piaciuto Veramente molto Cioè Le sparatorie In stile western Sergio Leone Certo Non ce ne sono molte Come avrei sperato Però Ce ne sono almeno Le battaglie con le astronavi Le interazioni con l'ambiente Grazie agli speeder Le astronavi Cazzarola C'è tutto questo Ed è azione mediocre Quando invece è proprio il fulcro Dell'universo di Star Wars Le battaglie stellari Boh Veramente non capisco E quindi ragazzi Gli effetti speciali Non li commento neanche Perché sono sempre da 9 Non si vede Evitivamente in questo film Non ho notato Che ci fossero Effettivamente Dei Degli effetti speciali banali Troppo cartuneschi No Mi sono piaciuti Gli hanno mascherati molto bene Dietro a questa patinatura Oscura Ecco Effettivamente La patinatura Dà un po' fastidio Perché da un film con Han Solo Ti aspetteresti qualcosa di caldo Qualcosa di Che esprime il concetto del deserto Ecco Qui c'è un variare di fotografie Per la maggior parte È un po' come Roguano Ovvero abbastanza fredda L'inquadrat Fredda la fotografia Però Ammetto che Nel sequenzo dove ci sono le rocce Oppure i deserti Diventa calda Quindi Non sono rimasto proprio deluso Da quel punto di vista Ma comunque bello Molto bello E infine la sceneggiatura Si lega un po' Il discorso dei dialoghi E dei fatti disneyani Ovvero Su alcuni ci posso passare sopra Altri invece no E ora prima di parlare Del no spoiler Anzi Andrò la recensione Con spoiler Vorrei parlare Del cameo finale Ormai come tutti quanti Noi sappiamo È abitudine Nei film di Star Wars Trovare dei camei Veramente importanti E Rogue One Se vi ricordate Aveva due camei Importanti Che in realtà Erano lo stesso Ovvero Darth Vader Che compariva Nella Nella sua sede principale Su Mustafar E poi Nella battaglia finale Sulla Tantive 4 O meglio Sua nave del generale Radus Che poi sganciava La Tantive 4 E ci si ricollegava A Nuova Speranza Anche in questo film C'è un cameo Che non vi starò a dire adesso Per Proprio Perché È una bomba atomica Ho esultato E sono rimasto abbastanza deluso Di essere stato l'unico Ad aver esultato In quel momento Ho proprio Applaudito Anche altre due persone Sotto di me Nei posti sotto Hanno applaudito Ma E ora ci arriviamo A un altro discorso Ma questo cameo Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Perché Effettivamente È una cosa bella Ad esplorare Nei prossimi capitoli Perché È una specie di porta Per il futuro Ma la sua presenza È completamente Ingiustificata E Vabbè In quel contesto lì Proprio io non me l'aspettavo Sono rimasto sorpreso In senso positivo Perché È interpretato Dallo stesso attore Di allora Ma no Proprio Ho le spiegazioni Ma no Non mi è piaciuto Quindi ragazzi Prima di cominciare Con gli spoiler Ultimissimo argomento Di cui voglio parlare È stato effettivamente Che Quando sono uscito Dalla sala Tutti erano Abbastanza silenziosi Alcuni molto soddisfatti Altri invece Hanno avuto Una certa freddura Pensate che ho sentito Uno sotto di me Che minacciava Eh sì Adesso vediamo il film E poi dopo lo spoiler Su facebook Non me lo sto inventando È tutto quanto vero Veramente C'è questa gente Che io prenderei a sberle Non so se stesse scherzando In quel momento Però spero per lui di sì Ha detto Aspetto il finale Per spoilerare su facebook A tutti quanti Che schifo Quindi ragazzi Io personalmente Mi tengo soddisfatto Di questo film So per certo Che non raggiungerà Le alte somme Degli ultimi Jedi Perché effettivamente L'astio che gli si è creato attorno Penso sia un po' troppo irreversibile Mi aspetterei Che guadagni Dagli 800 milioni Al miliardo Tondo 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 Non mi aspetto In incassi da Oscar Come gli ultimi Jedi Cioè Arrivare agli 800 milioni Serve comunque molto Però Ho paura che questo film Date le aspettative negative E che Khan Ha contribuito A peggiorare le cose Non credo che raggiungerà Le alte vette Appunto Degli ultimi Jedi O il rischio della forza O Rogue One No Verso Rogue One Potrebbe arrivarci Però Sono abbastanza Speranzoso Effettivamente Spero che Questo film Non venga Denigrato Come gli ultimi Jedi Che però Nonostante sia stato denigrato Vorrei far notare Che ha incassato Un miliardo E 200 milioni Qualcosa Anche di più forse Quindi Speriamo bene Io non credo che flopperà E soprattutto ci spero Quindi ragazzi Questo era tutto Il mio voto È 8 E adesso iniziamo Con la parte Con spoiler Vai Non vi starò a rivelare Tutta quanta la trama Dirò semplicemente Le parti che mi sono piaciute di più L'incontro tra Han Solo e Chewbecka Io non me lo sarei mai aspettato Cioè Han Solo Inizialmente È su Coreglia Che vorrebbe sfuggire Da quel Da questo posto Governato da una vermona Chiamata Proxima Che sembra essere il leader Di questi Di questi schiavisti E appunto costringono le persone A lavorare i cantieri edili Per l'impero E via discorrendo Quindi Han e Kira Cercano di scappare da Coreglia Ma vengono separati Da una piccola casualità E quindi Han Solo Si ritrova Appunto da solo Non facciamo battute Ve prego Che ne ho già sentiti troppi di meme A riguardo Si ritrova da solo All'accademia militare Imperiale Perché vuole arruolarsi In modo da trovare Una nave un giorno Tornare su Coreglia E liberare Kira Che è stata di nuovo Catturata E qui mi è piaciuto Perché si scopre anche Quella è l'origine di Han Solo Ovvero Lì si chiama Han Ma non ha una famiglia E qui penso che Il doppiaggio italiano Abbia contribuito molto Perché appunto L'ufficiale imperiale Dice Qual è il tuo nome? Han Famiglia Io non ho una famiglia Solo Allora Effettivamente Il doppiaggio italiano Ha molto aiutato In questo caso Sono veramente Soddisfatto di questo Comunque Han Arriva su questo pianeta Che non mi ricordo il nome Dove incontra Tobias Beckett Che lavora per l'impero Ma in realtà Sotto copertura In realtà Lavora per il club Dei Villain Di Dryden Vos Perché vuole utilizzare Una nave imperiale Per rubare un carico Su un treno Sempre imperiale E saldare un debito Quindi Han Scopre questa truffa Però Tobias Che non è ancora Il suo mentore Per cucirgli la bocca Va a denunciare Lui di diserzione Han E quindi Lui viene catturato E gettato in una fossa E quindi In questa fossa Dove è incatenato C'è questo bestione gigantesco Che sembra divorarlo E invece Chubecca Coperto di fango Completamente Che rugisce Ogni 4 secondi E allora Han E Chubecca Lottano un po' Ed è interessante Vedere come La loro amicizia Si è iniziata Con una scazzottata Proprio si pestano Si gettano addosso Il fango In faccia Per scappare Ma alla fine I due si coalizzano E riescono a scappare Ed è veramente La più improbabile Delle amicizie Cioè È il più improbabile Inizio Che io mi sarei aspettato Ovviamente Riescono a Guadagnarsi Con questa fuga L'attenzione di Beckett Che sta per fare il colpo E quindi Effettivamente Diventano una squadra Tutti quanti L'assalto al treno È fantastico Se posso parlare adesso Di Enfis Nest Che è sempre collegato Al discorso del treno Mi ha fatto veramente Molto piacere Che i rumor confermati I rumor non confermati Sono veri Ovvero che Enfis Nest Non è un uomo Ma è una donna E questo mi è piaciuto molto Quello che mi ha deluso Alla fin fine È il suo risvolto di trama Ovvero che si scopre Che lei Enfis Nest Non è parte Di una banda Di predoni Cloud Raider Cioè si chiamano Cloud Raider Ma non sono predoni Senza cuore Ma lavorano Per la ribellione Non sono cattivi Sono i buoni Alla fin fine E infatti Quando sembra Che stia per avvenire Lo scontro finale Su questo pianeta E stanno per Uccidersi a vicenda Il gruppo di Enfis Nest Ecco che I due fanno la pace Perché effettivamente Si scopre Che era tutto un malinteso Ma vorrei far notare Effettivamente Che l'inizio Della storia Con l'assalto al treno In cui Enfis Nest Arriva con i Cloud Raider Mostra una Enfis Nest Abbastanza cruenta Abbastanza spietata Cioè Vuole uccidere Beckett Proprio Così Non sapendo nemmeno Che lui lavora Per L'Alba Cremesi Così si chiama Il gruppo criminale Mafioso Di Dryden Voss Però Enfis Nest È diversa Da come la incontriamo Inizialmente Cioè inizialmente Sembra spietata E invece Tocco disneyano Fa parte dei buoni E della ribellione Quindi Questo mi ha deluso parecchio Se posso dire Ma il fatto che sia donna È veramente un risvolto di trama Che inizialmente Mi andava bene Poi per il fatto disneyano Includiamo Enfis Nest Nelle principesse disney A sto punto Ma vabbè dai La trama funziona comunque Anche con questo risvolto di trama Anzi Dà più significato Effettivamente a un solo Ma mi ha deluso Che Enfis Nest Non sia veramente cattivo E Adesso vorrei parlare Del rapporto tra Han e Kira Ho già parlato Prima di prevedibilità E infatti Il personaggio di Kira È prevedibile Perché sembra Romantica Proprio Non so come dire Innocente Agli occhi di Han Che sono tre anni Che non la vede Ma alla fin fine È colpo di scena Che io stesso mi aspettavo Lei è Spietata Un'assassina Che sta sempre Dalla parte di Han Perché prova veramente Sentimenti per lui Ma Ha un risvolto di trama Abbastanza Prevedibile Cosa che però Non è prevedibile No ci arriviamo dopo Voglio conservarvelo Per dopo Il colpo di scena Parlando di Dreyden Voss A differenza di Enfis Nest Che è caratterizzata bene Perché Vabbè È una dei buoni Alla fin fine Però è questo che le dà valore Un cattivo Che non si rivela Essere cattivo Ma buono È una caratterizzazione Più che buona Lei ha solamente a cuore Gli interessi Del suo popolo Maltrattato E reso in schiavitù E anche a cuore Gli interessi Della ribellione Che sta nascendo In questi anni Sotto il concilio Di Bail Organa E anche Della principessa Leia Che stanno appunto Formando la ribellione Però Dreyden Voss Come avevo paura È il villain Principale Della storia Ma è una macchietta Abbastanza Cioè È caratterizzato Secondo me Quanto basta Ma volevo Qualcosina di più È solamente un gangster Sfregiato Che è Spietato con tutti A manie Ossessive Compulsive Di uccidere Vabbè Facciamocela Andar bene Il risvolto Di trama Di Beckett Ovvero Che alla fin fine Han vuole Lavorare con Enfis Nest Per tradire Dreyden Voss E invece di Consegnargli Ciò che stavano Cercando per tutto Il film Ovvero Queste cellule Speciali Che sembra tipo Plutonio Non mi ricordo Il nome del composto E devono venderglielo A Dreyden Voss Per saldare I debiti Di Beckett E Intascare Una Una somma Sostanziosa Han decide Di allearsi Con Enfis Nest E fregare Dreyden Voss Però Beckett Sembra che Si sia completamente Ritirato dall'affare Decide di scappare Però Dice appunto Non fidarti mai Di nessuno E via Riscorrendo Per tutto il film Quindi alla fine Tu capisci che Non sta andando via Veramente A Tatooine Dove stava dicendo Che andava Perché un grosso gangster Giabadeato ovviamente Mette insieme Una squadra E Invece di andare lì Lui fa la spia Dreyden Voss E dice appunto Che Le casse Che stanno Per consegnare Han e Sochi Non contengono Il contenuto Richiesto Il materiale Ma è una trappola In modo che Loro intaschino Ma lui non intaschi Niente E quindi Anno che infine Come era prevedibile Han spara per primo Ovvero C'è questo duello Alla Sergio Leone Che non dura Neanche molto Però è molto intenso In cui Beckett Tiene sotto In ostaggio Chewbecka Dopo che Dreyden Voss È stato ucciso Da Kira Per proteggere Han Sta per Sparare a Han Tenendo il dito Sul grilletto E Han Prende subito Il blaster E li spara E infatti Questo è un rimando All'omicidio di Grido Nella taverna Di Mos Eisley Dove Beckett Diceva che sarebbe Andato A Tatooine Bello Prevedibile Ma comunque Ha un certo senso Quella scena E poi Le partite Con Lando Calrissian Lando Calrissian Possiede Il Millennium Falcon Che è spiegato Perché è diverso Il Falcon È diverso Perché Primo Lo spazio Che dovrebbe essere Vuoto Sul davanti Contiene in realtà Un guscio Di salvataggio Che Han Sacrifica Per sbarazzarsi Del mostro spaziale Durante la rotta Di Kessel Per distrarlo Eccolo Però Alla fine Il Falcon Viene così tanto Danneggiato Dalla tempesta E dall'attacco Dei Kachatai Sempre nella rotta Di Kessel Che in futuro Diventerà un pezzo Di ferraglia Effettivamente Con tutte le parti Scoperte Distrutte Han si Rimaneggerà Il tutto E anche la torretta La torretta È un unico Cannone Come si chiama Cannone ventrale È un unico Cannone Però Il cannone Viene disintegrato Da un colpo Di blaster Dei Un colpo laser Dei Kachatai E questo costringerà Han in futuro A cambiarlo In quello Con le quattro Bocche di cannone Che tutti noi Conosciamo È veramente bello La prima partita Han Solo La perde La partita Sabak Perché Lando Ovviamente Imbroglia Ovvero Usa le carte Del Sabak Ma ne ha Un altro mazzo Nascosto Nella Nella manica Quindi Quando pensi Che Han Solo Stia per vincere Il Millennium Falcon Lui non lo vince Anzi Lo perde Assieme anche A tutti i suoi beni E quindi La storia però Si ripete Quando Lando Se l'è squagliata A un certo punto Della storia Per scappare Da Enfis Nest Che non sa in realtà Essere parte dei buoni E quindi Han Rincontra Lando Su un altro pianeta Che sta sempre tenendo Una partita Sabak E qui mi ha deluso Effettivamente Che i dadi Dorati Non c'entrano niente Con la vincita Sabak Cioè sono solo Un portafortuna Ma nei fumetti Han vinceva Il Millennium Falcon Con i dadi Del Sabak Che subito dopo Ha legato Con una catenina Qui invece I dadi non servono a niente Sono solo un portafortuna Che comunque Li dà valore Per questo li tiene Sul cruscotto Del Falcon Gli porta fortuna Mentre guida Ma mi aspettavo Che li avrebbe usati Come da canone Per vincere A Sabak E invece alla fine Scopre che Lando Ha barato Con il meccanismo Quindi lo abbraccia Dicendo No Non fa niente Se mi hai lasciato là È tutto risolto Gli fotte Il mazzo E quindi Riesce a vincere Il Millennium Falcon Ed è così appunto Che termina il film Con Han e Chubekka Che Vanno verso nuove Minabrolanti avventure Con il nuovo Millennium Falcon Adesso vorrei parlare Della perdita di L3 Purtroppo L3 Muore Praticamente A tre quarti di film E mi ha deluso Come muore Ovvero Le miniere di Kessel Che vediamo finalmente Come sono fatte Contengono il materiale Che Han e Sochi Ci cercano Quindi Serve che entrino Nelle miniere di Kessel E lo rubino Perché ovviamente Le miniere di Kessel Sono sotto controllo Imperiale Quindi Al minimo segno Che lavorano con Dei gangster Tutto andrà puttane Quindi devono Rubarlo Il fluido Le dodici fiali di fluido Però L3 Nel suo tentativo Disperato Di salvare I droidi I walkie Amici di Chubekka E via discorrendo Perde la vita Effettivamente E mi ha deluso Veramente molto Cioè Sapevo che Lando Alla fin fine Ne sarebbe uscito Da solo Perché non si è mai Accennato a L3 Nella trilogia originale Quindi immaginavo Che sarebbe morta O se ne sarebbe andata Per i fatti suoi Invece muore Ma quel che è commovente Che la descrizione Ufficiale del Millennium Falcon Dice che L'interfaccia del Falcon È composta Da tre cervelli Di droidi E effettivamente Quando L3 muore Lei era l'unica Ad avere le coordinate Esatte Per l'uscita Dalla rotta di Kessel Perché la rotta di Kessel È pericolosissima Ma c'è una scorciatoia Che solo lei poteva calcolare Quindi le strappano Il circuito Che dovrebbe rappresentare Il cervello La memoria binaria E la collegano Al Millennium Falcon E anche per questo Dico che Se Lando Dato che so che È pansessuale Non lo guarderò più Con un dato occhio Come se fosse Etero E basta Non avevo le conferme Se lui lo guarderò In modo diverso D'ora in poi Guarderò diversamente Anche il Falcon Perché adesso so Che un personaggio simpatico Come L3 È come se in tutti questi film Fosse sempre stato lì Effettivamente Una Un'intelligenza artificiale Così buona Sensibile Che prova anche Una certa attrazione Per Lando In un certo senso Effettivamente in tutti questi film È sempre stata lì Con Han E con Chewbacca Nel Falcon E se ci penso È bello Molto bello E adesso Dato che ho esaurito Gli argomenti Parliamo Del cameo finale Sarò onesto Come ho detto prima Effettivamente Ho applaudito Quando L'ho visto Ma era talmente Inatteso Che se ci penso Adesso Era inatteso Perché Effettivamente Non lo reggo Cioè Tutto io potevo aspettarmi Mi aspettavo Obi-Wan Kenobi Che compariva alla fine Su Tatooine Per inaugurare Il suo prossimo Spin-off Nel 2020 Tutto mi aspettavo Tranne Darth Maul Cioè Io mi incazzo In questa scena Perché Ho applaudito Perché è sempre Lo stesso attore A interpretarlo Ma Il mio problema Personalmente È che a me Non piace L'universo espanso Di Star Wars Non mi piace Da cosa Traevo gioia In questi film Che effettivamente Il materiale Espanso Si basava Sui film Non il contrario Cioè Io non ho mai dovuto Guardare per forza Clone Wars O Rebels Per capire una cosa Nei film I film Generavano Cose che Se avrebbero state esplorate Nei cartoni animati A me Clone Wars E Rebels Non piacciono Ma li ho guardati Comunque per Farmi a meno Un'idea E ho fatto bene Sinceramente Perché altrimenti Avrei tirato un porco Di quelli che a metà bastano Perché Darth Maul Io ho visto Rebels E Clone Wars So come è possibile Che lui sia lì Ma un fan Che non ha mai visto Clone Wars O Rebels Per lui L'ultima volta Che abbiamo visto Darth Maul Era nella minaccia Fantasma Quando Obi-Wan Lo taglia A due A metà E lui cade Nel pozzo Del reattore Di Naboo Che poi si era scoperto Essere finito Su un altro pianeta Il cui nome Non mi ricordo Purtroppo Un pianeta di scarica E poi c'era tutta quanta La questione di Savage Opress Ventress E via discorrendo E poi Darth Maul Si ricostruiva Le gambe Con delle gambe Robotiche Come si vede In questo film E iniziava Per combattere I Jedi E i Sith A formare Un impero criminale Io non mi aspettavo Che la banda Dell'Alba Cremesi Che è governata Da Draen Voss Fosse in realtà Dominata Dietro le quinte Da Darth Maul Però Io mi incazzo Che adesso hanno reso Clone Wars E Rebels Canonici Cioè io non volevo Che li rendessero canonici Io posso anche buttare via Clone Wars E Rebels Che non mi piacciono Non fa niente I film Si tenevano in piedi Da soli Non più Adesso devo considerare Clone Wars Canonico Rebels Canonico Con tutte le puttanate Che ci sono dentro Sì E' per questo che non mi piace Clone Wars E Rebels Sono troppo per bambini A parte che i cartoni animati Non mi piacciono Però Ora devo considerarli Canonici Effettivamente Con tutti i casini Che ne seguono Il pianeta della forza E via discorrendo Quelle cose non c'erano Nei film E andava bene Così potevo considerare Solo i film Ora non più E io capisco Perché c'è Darth Maul Effettivamente lì Lì dovremmo essere Cronologicamente Dopo che lui E' stato sconfitto Da Sidious Dopo che Sidious Ha ucciso Savage Opress Suo fratello E dopo che L'ha reso prigioniero Non so effettivamente Come Darth Maul Sia arrivato a Datomir Il pianeta delle streghe Delle sorelle della notte Però Ha senso effettivamente Che sia lui Il capo Della gang Perché Darth Maul Durante l'era Della repubblica In Clone Wars Si era fatto il suo esercito Con i Mandaloriani Con le altre gang Quindi si Ha senso Però Mi dispiace Che l'abbiano incluso Nel film Potevamo farne a meno Però Sapete come potrebbero uscirne Penso Che se facessero Un altro Han Solo Parte di una trilogia Su Han Solo Kira Lavora per Darth Maul E' lei che lo contatta Con un ologramma Dopo che lei ha ucciso Dreden Voss Scarica la colpa Su Come si chiama Su Beckett Che in realtà è già morto E Darth Maul Si mostra su questo trono E con le gambe Robotica E il cappuccio Che poi si toglie E dice Raggiungimi su Datomir Tu e io Lavoreremo a stretto contatto D'ora in poi E la faremo pagare Ai traditori Ovvero A Beckett E Han Solo E Ciubecca Potrebbero effettivamente Mostrare Dei remake Dei reshoot Ovvero Potrebbero mostrare In un futuro Film Come effettivamente Darth Maul Si è sopravvissuto A Naboo Ma facendo un remake Cioè Mostrando sempre Quello che hanno mostrato In Clone Wars Ma adattandolo In live action Funzionerebbe effettivamente Così almeno Non dovrò considerare Clone Wars Completamente canonico Almeno questo Però Ci sarebbe un buco Di trama Effettivamente Darth Maul Non può essere L'antagonista Di Han Solo Perché Han Solo Fino a Nuova Speranza Non ha mai sentito Parlare di Jedi E non ha mai creduto Nella forza Quindi lui non può Incontrare Darth Maul Non può Perché Non sa cosa siano Le spade laser In Nuova Speranza Non ha mai visto La forza Quindi Non avrebbe senso Che Darth Maul Proprio per questo Dico che Darth Maul Non dovrebbe esserci A parte la parte Fighissima Alla fine dell'ologramma Darth Maul Si alza E apre la spada laser Doppia Non ha senso Ma è bello Esteticamente Ammetto Quindi questo cameo finale Mi piace Perché apre molte Possibilità Per il futuro Ma da un altro Punto di vista Non mi piace Ma il bello È che è sempre Lo stesso attore A interpretarlo Il cui nome Purtroppo non mi viene Però è bello Quindi ragazzi Effettivamente Questo Era solo A Star Wars Story Un film che io Inizialmente Prima del primo trailer Non avrei dato Manco un centesimo Perché non ci credevo Manco per il Dopo il primo trailer Ho iniziato A sentire Quella voglia Di vederlo Dopo le recensioni Di Cannes Ho iniziato A buttarmi giù Di morale E ora sono contento Veramente È proprio La dimostrazione Che non devo affidarmi Che non si deve affidare Ai giudizi altrui E quindi ragazzi Prima di concludere Io vi ricordo Che i commenti Non sono disabilitati Fate quello che volete Però Non baderò Retta Potete anche dirmi Se è il migliore del mondo Non risponderò Perché Non ha proprio senso Il fandom di Star Wars Io lo detesto Per questo Non sono iscritto A nessun gruppo Nessun Niente Io ho le mie idee Me le tengo per me Mi piace condividerle Ripeto con voi Ma lo più in altrui Mi interessa Se è un'argomentazione Senza offese Perché voi dicono Ah Fanboy Disney Fanboy della nuova Lucasfilm Cazzo me ne frega Cazzo me ne frega a me Potete anche dirlo Tanto io In cuor mio So che non è vero Mi piacciono i film di Star Wars Perché almeno mantengono In me Un bambino vivo Cioè io guardavo Fin da bambino I film di Star Wars Se avranno anche solo Un barlume Di quei ricordi Se li manterranno vivi Nel mio cuore Per me va bene Posso sorpassare cose tipo L3 Donna femminista Che lotta per i propri diritti L'Andopan sessuale I Porg Me ne sbatto Se il resto mi piace E la maggior parte Delle cose mi è piaciuta Quindi non vedo Dove sta il problema Per voi Ovviamente il problema Risiede nel fatto Che io Quindi continuerò A finanziare I progetti della Disney Che a voi non piacciono Questo è il problema Se non la pensano come voi Gli altri sono degli emarginati Devono essere emarginati Proprio per questo Stavolta Gli emarginati sarete voi Non me ne frega Di nessun commento Lo dico Perché No peraltro La recensione Degli ultimi Jedi Mi ha toccato profondamente Nell'animo Non avevo mai ricevuto Tante offese in vita mia Quindi Fatevi un attimino Due conti Ebbene ragazzi Questo era tutto Al caso di ricevete un like Anche se non risponderò Ai commenti Li leggerò Quindi se avete anche voi Delle opinioni su Un Solo E su Solo Stavol Story Scrivetele pure Nei commenti Noi ci vediamo Con altre accensioni Gameplay E molto di più A presto